E perché infioriamo? E perché infioriamo? Perché infioriamo? Questa è una bella famiglia, per tradizione, sicuramente, per voglia di far bene con il paese e poi perché vediamo che poi il giovane possa migliorare, è meglio di ogni ora. Senza l'infiorata, io come vedi che sono uscita lì nella cospetaria, se non stavo qui ero come un modo, diciamo, ci piace, è una passione. Infioriamo perché l'infiorata ci rappresenta un po' a tutti, ai portugolianesi, per stare tutti insieme, anche per socializzare. Infioriamo perché queste sono le nostre tradizioni, perché è quello che ci appartiene. L'infiorata è qualcosa che fin da quando siamo bambini ci ha fatto crescere, ci ha insegnato a spudularci nei parchi, a raccogliere i fiori, a buttarci tra le ortiche, pensavo che fossero loro. In realtà poi i risultati che ne vengono fuori sono sempre degli spendi di quadri. L'infiorata è un po' a tutti. L'infiorata è un po' a tutti. L'infiorata è un po' a tutti. L'infiorata è un po' a tutti.